Giocare come sempre è quello che Mr. Sarri sta chiedendo ai suoi a poche ore dalla super sfida con la Juve. Gara scudetto, senza dubbio alcuno. Chi dice di no dice sciocchezze, perché è vero che resterebbero tante partite da giocare, ma lo è altrettanto il fatto che gli scontri diretti determinano, specie sotto l'aspetto mentale, un vantaggio non indifferente per chi li vince. Il Napoli arriva alla partita dello Juventus Stadium con la consapevolezza di essere forte, di conoscere le sue virtù, ma anche i propri difetti. Il Napoli non vince a Torino con la Juve dal 2009, solo 7 le vittorie degli Azzurri in 72 match in terra piemontese. Ma quando vince lì, il Napoli lascia il segno. Chi ha dimenticato il fantastico 3-1 del 1986, quando Maradona incantò, pur non segnando? Ferrario, Giordano e Volpecina, gli autori dei tre gol scudetto, dopo il sigillo iniziale di Laudrup per la Juve. Rimonta scudetto, partita memorabile. E speriamo che anche stavolta finisce così. Passiamo alla Serie B, che farà da antipasto al succoso primo piatto serale del sabato. La salernitana impegnata a Terni contro l'ex Breda, che detiene il record di presenza in Maglia Granata. Partita tutt'altro che semplice per Menichini e i suoi, Zito, Ronaldo, Emperor, Schiavi, Tuya, Perse e Tunkerà, non ci saranno per infortuni o squalifiche. Insomma, mezza squadra fuori dai giochi, col tecnico appena arrivato, che dovrebbe inserire Pestrini in difesa, con Ceccarelli e Bernardini davanti Coda e Donnarumma, saranno di certo i titolari. Il Lega Proce è la Paganese a Messina, ma domenica con la convinzione di poter continuare nella marcia di avvicinamento alla quota salvezza, grazie a un girone di ritorno per ora fantastico. Gli azzurro stellati stanno dimostrando che la bontà delle scelte effettuate sul mercato di riparazione stanno portando a frutti sperati. Parola d'ordine e continuità, quella che è stata trovata finora nel 2016 da Caccavallo e compagni. In Serie D, gara posticipata domenica di un'ora per la Cavese col Due Torri, e per ora bloccata la punizione ai tifosi che era stata decisa dal presidente Campitiello. Niente aumento dei prezzi dei biglietti, ma stavolta ci si aspetta uno stadio Lamberti gremito per una gara che potrebbe confermare a più 4 o anche di più il vantaggio sulle inseguitrici siracusa e frattese. Infine, l'anticipo al sabato anche del cittadino c'era contro la Scafatese. Mister Maiuri, proprio come è avvenuto contro la Mariglianese, spera di chiudere presto i conti, anche se non sarà facile. Questo perché mercoledì c'è l'importante impegno di Coppa Dilettante versione nazionale contro il Vultù Rio Nero, primo match del triangolare che vede dentro anche il Gravina pugliese. Grazie.